Sono contento ma l'ultima cosa era la vittoria, sono due punti fondamentali e quindi l'importante era quello, poi ovvio che se una prestazione non vi è uguale, anche positiva, si è solamente più contenti, però questa vittoria vale tanto, l'abbiamo desiderata e non era facile oggi perché anche loro ovviamente hanno avuto poco tempo di recuperare, però sono una squadra molto tattica, con tanti tiratori, tanti terminali ostensivi, tanti giorni buoni, quindi non era assolutamente facile. Sei il capitano della squadra sanitaria in vetta almeno per 48 ore, domenica legnano Roma, sarai in streaming, tu sarai domenica attorno all'ora in 18c. Non me la guardo, non farò dove sarò, però sicuramente non avrò subito il risultato. Pensiamo a noi, stiamo lavorando bene in settimana, questo lavoro poi produce queste prestazioni qua e dobbiamo continuare a fare così e guardare partita dopo partita. Ora abbiamo un calendario, direi abbastanza dosto, perché incontriamo in anno che prima squadroni come Trapani o Ferentino che magari stanno rendendo meno di quello che ci si aspettava, quindi è un campionato duro, lungo, purtroppo è ancora molto lungo e niente, continuiamo così. Grazie. 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 Grazie.